cari amici di mille un'avventura eccoci tornati a un altro episodio di tg1001 il nostro tg dove parliamo di quello che è accaduto nella settimana riguardo lo sviluppo di videogiochi il commodore 64 il retrocomputing ma soprattutto le avventure testuali e la prima notizia e poi per il resto vedremo tanti canali su youtube che trattano di questi argomenti ma la prima notizia e se vi interessano questi argomenti mi raccomando iscrivetevi riguarda proprio le avventure testuali infatti è uscito il parco di chadi questa avventura testuale che di genere horror di play for fight play for fight è il primo autore di avventure testuali che ho portato sul canale ormai penso diversi diversi anni fa l'avventura del 2018 ma in realtà ecco la sua versione definitiva è qui la vedete in questo sito che vi linkerò ovviamente qui sotto in descrizione e andatela a giocare e portate i vostri contributi di osservazioni commenti critiche costruttive all'autore mi raccomando e soprattutto giocatela perché come dice paolo lucchesi un altro autore di avventure testuali mitico nel panorama italiano beh è l'unica avventura testuale horror che fa paura quindi praticamente è da non perdere se vi piace ovviamente il genere delle avventure testuali in particolare quelle horror andiamo poi a vedere qualcos'altro che riguarda invece il canale il nostro canale vedete che cosa abbiamo portato nell'ultima settimana vi ricordate la sfida sugli autogrammi queste parole che queste frasi che si autodefiniscono abbiamo mostrato gli algoritmi creati dai vincitori a ben due vincitori abbiamo avuto uno velocissimo ha portato subito la sua soluzione in c++ ed è quella che si vede in questo video e poi in un altro video abbiamo portato invece questa soluzione in python con addirittura un workbook completamente interattivo che potete utilizzare per capire come queste frasi che si autodefiniscono sono state generate complimenti ai due vincitori come abbiamo già detto sono davvero eccezionali però abbiamo anche parlato di questa avventura testuale eracle e lidra di lerna di tommaso caldarò l'abbiamo portato la notizia durante la settimana ne avevamo già un po accennato nel nell'anteprima e probabilmente la prossima settimana porteremo i primi passi della dell'avventura di play for five e quindi abbiamo visto i primi passi di questo eracle e lidra di lerna addirittura in due settimane due nuove avventure da giocare non perdetele sono davvero interessanti soprattutto in italiano visto che le altre avventure uscite sono quelle della ifcomp che in effetti sono altrettanto interessanti però in inglese e quindi può essere un po più problematico fruirne e poi abbiamo visto unity questo endless runner per unity questo asset gratuito sull'asset store di unity che permette di creare questi runner questi giochi in cui si continua a viaggiare in un percorso che diventa sempre più vario e qui ci sono proprio tutti i codici per rendere questi blocchi che si incastrano generati proceduralmente senza fine da provare per chi utilizza unity per i propri giochi e poi abbiamo visto ancora tornando sul commodore 64 abbiamo scoperto come si tentava all'epoca di creare dei delle sfumature di colori voi sapete che il c64 solo 16 colori e si tentava di creare delle sfumature intermedie mediante opportune tecniche che abbiamo portato qui sul in questo video purtroppo è tutta questione di frame rate cioè di come gli schermi vengono ridisegnati e l'effetto non si vede bene perché c'è di mezzo un emulatore del c64 c'è di mezzo il frame al secondo del mio monitor e anche della registrazione video e anche del diciamo dello schermo su cui voi guardate il video perciò diciamo che all'epoca poteva essere un effetto che dava più rendeva di più sui televisori dell'epoca qui addirittura vediamo claudio che propone la sua versione e ci si vede ancora peggio insomma comunque è interessante vedere come si realizzavano certe cose tanto tempo fa ora vediamo i canali di cui seguiamo l'evoluzione c'è ovviamente il primo è sempre project cd perché porta sempre argomenti molto vicini a quelli che trattiamo anche noi di cosa ha parlato questa settimana innanzitutto di intelligenza artificiale ha parlato di questo articolo in cui viene descritto come creare dei paesaggi o delle modellazioni tridimensionali mediante le solite tecniche di intelligenza artificiale questa si chiama 3d gpt molto interessante non c'è ancora penso del codice da provare o dei risultati da provare effettivamente per ora c'è l'articolo scientifico poi claudio ci ha spiegato questo wubi questo programma che aveva realizzato fino al 2017 e che consentiva di creare in modo visivo applicazioni per cellulare quindi interessante anche questo testato su windows 10 su ubuntu e su varie su vari browser e quindi andatelo a vedere davvero anche questo interessante parliamo sempre di mister inter 13 19 iscritti continuano ad aumentare che cosa ha di cosa ci ha parlato ha portato avanti il suo gameplay di starfield e quindi sta proseguendo le missioni ha esplorato un pianeta e va avanti insomma il gioco ormai penso che lo conosciate tutti e quindi diciamo che andare avanti nelle missioni non è proprio il massimo a quanto mi dice qualcuno poi game from scratch ne parliamo ogni tanto perché porta sempre delle notizie degli dei video che riguardano argomenti del mondo videoludico sempre di attualità questa volta il video che vi propongo è su inc inc che cos'è un linguaggio di scripting per la narrativa è stato usato da incol per creare tanti giochi testuali accompagnati da mappe ed altre cose ma soprattutto caratterizzati da dialoghi dialoghi che vengono grazie al linguaggio inc ben confezionati e con tante possibilità di risposte domande possibili perciò è proprio studiato questo linguaggio per ne abbiamo anche forse parlato anni fa sul canale di come funziona in chi e inc in particolare e nel parla anche game from scratch quindi non porta solo motori tridimensionali ma anche cose molto più interessanti ecco dal nostro punto di vista l'archivio del signor santilio ha continuato continua a portare questi gameplay queste recensioni di giochi siamo arrivati alla numero 177 che riguarda la miga l'attari st e il pc dicembre 87 ormai già non giocavo più all'epoca però rivedendo ancora certi giochi vediamo un po' se ecco intanto qui c'è il signor santilio che ci accoglie su questo bel divano giallo e poi ci mostra alcuni alcuni giochi e ce li recensisce poi alessandro scuderi ne parliamo ma solo perché ha proposto il gameplay di questo gioco che non conoscevo disney speedstorm la prima giocata su questo gioco il primo gameplay e a quanto pare ha a che fare con topolino che viaggia su queste automobili finalmente si sono decisi la disney a sfruttare le loro licenze di topolino e compagnia divertente come cose riccardo masini ecco riccardo masini ha un canale che riguarda i giochi i war games i giochi di simulazione e recentemente qualche giorno fa sei giorni fa ha proposto questo video su war games days 2023 di piana delle orme perciò vedete tutti i tavoli pronti per ospitare i simulatori di battaglie e poi la presentazione evidentemente di vari giochi e quindi anche questo è interessante se vi occupate così di giochi anche da tavolo è un video interessante calavera caffè caffè avventure grafiche ecco a quanto pare il tuo biglietto per l'avventura vagone ed ossa episodio 31 del 27 ottobre 2023 che cos'è di che cosa parla ovviamente di avventure grafiche e gli argomenti della puntata sono tutti questi se vi interessano le avventure grafiche non perdetevi il canale di calavera caffè comodo 64 e 6510 retro programming questo è un canale in francese perciò può esserci quell'ostacolo della lingua con pochissimi iscritti però mi sembra che porti davvero argomenti interessanti e in questo video parla della trigonometria che è disponibile nel kernel del commodore 64 ed evidentemente riesce a fare ecco delle cose di questo genere sfruttando la trigonometria del kernel 64 del commodore non so come abbia fatto ma se vi interessa in francese lo trovate triangular è il canale del sistema operativo per commodore 64 che stiamo seguendo da qualche tempo siamo arrivati alla versione 1.28 perciò continuano a supportare ora supporta anche cbm2 è sparito tutto non so perché a noi era il video e praticamente insomma è un'evoluzione ancora di questo questa interfaccia grafica per commodore 64 e vediamo cos'altro abbiamo trovato salvo gamer 91 visto che ci fa sempre visita sui nostri video ecco a questo canale dove sta facendo dei gameplay su roblox non so quanto vi possa interessare però magari sono li trovate divertenti salvatore forenza invece ci porta sempre retro gaming questa l'ultimo video riguarda il mitico frog frogger ma frogger sull'amiga 500 penso perché di solito sono gameplay su amiga però è indistinguibile dalla versione arcade perciò vedete sta forse ce la fa a riempire l'ultima sì ce la fa è anche molto bravo a giocare creepy cat creepy cat l'abbiamo mostrato varie volte nel passato del nostro canale perché abbiamo sfruttato alcuni suoi assets fantascientifici per creare delle scenette un paio d'anni fa ormai risaliranno quelle scenette lì erano i tempi delle sfide su unity in cui si voleva creare magari dei mini giochi molto velocemente sono rimasti un po lì tutti quanti però creepy cat interessante perché produce proprio tutta una serie di assets e evidentemente abbandonato il tema fantascientifico per il momento per creare questi assets medievali diciamo che non se ne sentiva la mancanza perché c'è pieno di questi assets qui sul sullo store di unity mentre erano più originali sicuramente quelli fantascientifici dopodiché per concludere abbiamo ancora emd 69 che porta sempre riparazioni di amiga di commodore 64 perciò se avete qualcosa da riparare provate a contattarlo e magari lui vi può aiutare qualche vecchio computer che non vi funziona più e qui sta facendo un intervento su una amiga 600 e quindi è interessante proprio per gli appassionati sono cose indimenticabili l'ultimo ma non ultimo c'è story doctor magari chi si occupa di avventure testuali si occupa anche di narrativa di scrittura di racconti story doctor che è andrea viscusi che è un diciamo scrittore editor di racconti di romanzi che in questo canale ci racconta un po come si può scrivere un racconto quali sono le tecniche come come editare un racconto come appunto tutte queste cose che girano intorno alla narrativa non avventure testuali ma narrativa in genere ma è chiaro che molte delle cose che ci racconta ecco sono applicabili anche alle avventure testuali qui ci racconta per esempio di un anno fa che il viaggio dell'eroe non basta per scrivere un buon racconto un buon romanzo però insomma è già una base di partenza il viaggio dell'eroe se non sapete che cos'è andate a seguire i suoi video perché appunto è la base della narrativa della favola della fiaba il viaggio dell'eroe l'ultimo video che ha fatto ecco un'espressione non molto interessante quella che avevo beccato serve davvero la scheda personaggio ecco sappiamo che esistono dei software appositi dove ci sono tante schede da riempire e poi possono essere utilizzati questi software per scrivere effettivamente il romanzo il racconto però sono zeppi di schede da riempire serve davvero la scheda personaggio ce lo racconta andrea viscusi sul suo canale story doctor e direi che con questo ultimo canale abbiamo un po fatto la solita carrellata che ci ha accompagnato attraverso gli argomenti di cui di solito parliamo e non mi resta che darvi appuntamento alla prossima settimana dove torneremo a parlare di tutte queste cose scopriremo giorno dopo giorno che cosa porteremo sul canale ma se avete dei suggerimenti qui sotto nei commenti non avete che da proporne a me non resta ancora che ringraziarvi per l'attenzione ci si rivede in un prossimo video o in una prossima diretta ciao a tutti